Piani è una collezione nata da una serie di schizzi di dettagli estremamente artigianali. La vera sfida è stata portare proprio questi dettagli così artigianali ad una produzione industriale. Faccio l'esempio del raccordo a 45 gradi, non volevamo creare un semplice raccordo a 45 gradi ma abbiamo creato appunto questo incastro tra fianchi e frontali completamente nuovo, l'inserimento di soluzioni estremamente innovative come la maniglia incasso, il fatto di poter avere la maniglia integrata o il semplice impulso. A tutti questi dettagli abbiamo aggiunto anche una veste particolare con le numerevoli finiture che abbiamo poi toccato, quindi da ai materiali solidi, ai ligni tecnici, alla pietra e a tutti i nostri laccati e a tutte le finiture che abbiamo poi inserito all'interno della gamma. Piani è sicuramente la nostra punta di diamante. Penso che Piani abbia sicuramente contribuito a alzare la percezione del nostro brand su molti mercati. Grazie a Piani siamo entrati in mercati per noi prima sconosciuti anche dal punto di vista di distribuzione. La bella notizia è che stiamo già lavorando a nuovi articoli da aggiungere alla collezione, quindi oltre alle infinite possibilità già presenti sulla collezione se ne aggiungeranno delle altre. Piani rappresenta l'alta artigianalità della nostra azienda e del Made in Italy. Ambizione, questo è il termine con cui racchiuderei la collezione Piani. Piani rappresenta l'alta artigianalità della nostra azienda. Grazie a tutti. Grazie a tutti.